Momento! Questa musica, come ho già detto tante altre volte, rimarrà per il momento fino alla fine di luglio come sigla di testa della nostra attuale trasmissione. La sigla di coda, amici e amiche, purtroppo non c'è in quanto ancora non è prevista. Carissimi amici e carissime amiche, benvenuti ad una nuova puntata straordinaria della mia trasmissione, Muto come un pesce. Perché puntata straordinaria? La puntata è straordinaria perché in questo momento siamo di mattina e generalmente la trasmissione di mattina la facciamo una o due volte alla settimana, o di mercoledì o di giovedì, come capita. Questa puntata è la numero 515 della mia trasmissione Muto come un pesce. e in questa puntata, anche se c'è la sigla, è un talk. In tutte queste puntate, anzi in tutte le mie puntate di talk, mi soffermo sulla prima puntata, spesso, non per ripetere le stesse cose, ma ovviamente per aggiornarvi. E difatti, alla prima puntata di Giorgettina, fatta, come ho già detto tante altre volte alla fine del 2017, sono state fatte 316 visualizzazioni. Ciò, ancora una volta, sono molto contento davvero che voi tutti mi avete seguito, mi state seguendo e continuerete a seguirmi. Io preferisco che voi mi seguiate per impararvi. Va bene? Per impararvi. Ieri sera non siamo andati in onda perché sono stato a cena a casa di un professore di applicazione tecnica che sta a quella Santa Maria del Ceto e sono rientrato stanotte con il mio amico commercialista. Questo vi voglio dire per quale motivo ieri sera non siamo andati in onda. I miei hobby, come ho già detto in una delle mie tante puntate, sono la passione delle automobili, l'ippica, aschi veri e quelli di Peruche, soprattutto gli orsi di Peruche. L'ippica la seguo spesso da ben 16 anni e di fatti domenica a Capanelle c'è il 136esimo derby italiano del galoppo. Ma che cos'è il derby? Dovete sapere che il derby non è la partita di calcio. Il derby ipico del galoppo è la corsa nazionale più importante del galoppo. Io spero di poter andare al derby anche perché così incontrerò l'avvocato Carminati e poter scendere con lui lunedì. Poi sono appassionato di aschi e gli aschi mi piacciono molto. Gli aschi sarebbero sono delle razze di cani. Gli aschi mi piacciono molto perché sono simpatici. Col fatto che ho avuto problemi in passato delusione eccetera con il consiglio di Francesco alla fine del 2017 è nata la mia trasmissione molto come un pesce. primaverile perché siamo già a primavera. In questa trasmissione si parla solamente di musica. Nel corso di queste anzi in tutte queste tante puntate ho citato a parte le mie canzoni vari brani di tutti i cantanti ancora non ho citato qualche brano di Ivano Fossati qualche brano di Donatella Rettore La Bionda e qualche brano dei ricchi e poveri. Spero di esibirli al più presto possibile. A questo punto non resalto che salutarvi e dandovi appuntamento a oggi pomeriggio per un'altra puntata regolare. Auguro a tutti quanti voi buona giornata e per gli scolari buon inizio di scuola. Questa puntata è offerta da tutta la gamma Peugeot e vi consiglio di andare a provare qualsiasi Peugeot alle concessionarie d'Italia. Sono a parte che sono appassionato di quelle lì che ho detto poco fa sono appassionato di cucina e difatti una delle mie canzoni personali l'ho intitolata Bugatini gioia mia. Bene anche se la puntata è durata qualche minuto in più mi scuserò e farò un messaggio al regista l'avvocato Cesare Carminati il che è un simpaticone a pomeriggio ed un bacio di la di di la l'an